Oggi abbiamo presentato la seconda edizione di Future, un progetto per supportare l'imprenditorialità straniera. È un fenomeno molto importante per il territorio che in dieci anni è cresciuto del 38%. Qui sul territorio di Torino abbiamo il 14% delle imprese straniere, o meglio delle imprese fatte da imprenditori di origine straniera, che sono 31.000 qua nel Torinese. È un fenomeno importante anche perché c'è una comunità, quella importante per esempio quella della Romania, del Marocco o dell'Albania.